Ragazzi, siamo davvero niente male! Dovete richiamare la loro attenzione e fare tanto rumore! Così che ora i pappagalli capiranno e a scuola rientreranno! Ma dai, Drami, se sono qui buona come un agnellì! Ah! Ah, le dispiace farci passare, Ippopotama! ...è una grande montagna che può esplodere da un momento all'altro! Che? Ah! Le dispiace farci passare, Ippopotama!